Non ci aveva fatto un cazzo, quindi questa è la sua macchina, è la sua bellissima macchina E noi cosa faremo? Gli metteremo una pellicola e i post-it, perché? Perché alla ragazza che ha appena conosciuto l'ha portata a mangiare a me e al cameraman Amici a lui, amici, lo vedi? Amici da una vita